Salve a tutti in collegamento da Regione Lombardia con il dottor Guido Bertolaso, ho detto dottore per ricordare sempre che Guido Bertolaso, oltre che essere l'assessore al welfare della Regione Lombardia, è anche un medico. Emergenza caldo, sono arrivate le direttive da Roma, Regione Lombardia è già al lavoro per mettere in moto tutta la macchina che ovviamente già produceva tutto quello che doveva fare, linee guide comunicate alle SST e alla TS. Ma diciamo che Regione Lombardia da questo punto di vista si avvale anche dell'esperienza di chi nel 2003 ha lanciato la gestione dell'emergenza caldo e delle ondate di calore, quindi c'è una grande competenza, c'è esperienza in tutta la struttura e in tutta la Regione che sta dimostrando infatti che da questo punto di vista siamo ben attrezzati e stiamo gestendo bene la situazione. La direttiva del Ministro della Salute è stata pienamente recepita, tutte le strutture sanitarie sul territorio sono allertate, sanno come devono comportarsi, in particolare ovviamente il peso maggiore finisce sempre sui prontosoccorsi, perché è stato stabilito dal Governo e noi non possiamo che essere d'accordo, che coloro i quali si presentano al pronto soccorso per un colpo di calore devono essere trattati come minimo come codici verdi. Questo significa che da un lato non si paga il ticket e dall'altro che comunque hanno bisogno di un'assistenza, di un controllo che deve rientrare in tempi compatibili con questo genere di problematiche. Fortunatamente, facendo tutte le scaramanzie del caso, la situazione in Lombardia è sotto controllo e non si registrano picchi o situazioni preoccupanti. Ma succede sempre così, parlando di emergenza, quando un'emergenza può essere prevista ci si organizza, si comunica in modo corretto quelle che sono le cautele, le precauzioni che devono essere adottate e quindi diciamo che questa emergenza caldo è arrivata, annunciata e per cui molti cittadini, giustamente si sono preparati, stanno attenti, si cautelano, i soccorsi sono organizzati e molto tempestivi e il combinato disposto di tutti questi fattori ovviamente risulta in una situazione molto meno critica rispetto a quella che poteva essere, almeno in Lombardia. Ci sono dei casi isolati ovviamente, alcuni anziani ovviamente stanno soffrendo e stiamo cercando di assisterli ma rispetto ad esempio agli accessi dell'anno scorso ai pronto soccorsi, quest'anno i numeri sono molto inferiori. Per concludere, lo abbiamo detto in un precedente collegamento, ribadiamo due o tre regole fondamentali di cui parla il medico Bertolaso, bere acqua abbondantemente e nutrirsi magari con cibi leggeri. Ma ho letto da qualche parte che bisogna bere almeno due litri d'acqua, bere due litri d'acqua deve essere la norma nelle situazioni quotidiane, anche a gennaio bisogna bere due litri d'acqua, bevete molto di più di due litri d'acqua, mangiate frutta, verdura fresca, ovviamente tenetevi al coperto nei momenti più caldi della giornata e per il resto siamo in estate quindi godiamoci anche l'estate. Grazie a Guido Bertolaso e arrivederci a un prossimo appuntamento con Lombardia Notizia Online. Grazie a tutti.